Bene, ma ora? Ma ora? Perché questa sembra una gentilezza, no? Come se lui avevi detto ma ora io dovrei dire il nome del gruppo. Certo, che è facile da ricordare. E io credo che neanche il gruppo stesso lo sappia perfettamente, probabilmente lo cambiano tutte le sere, ma noi se ci date una maglietta noi non ci sbagliamo neanche. Ma è facile comunque. Sì, sono gli H2 aminoacidi. Esatto, è stato scelto proprio questo nome perché rimane proprio fisso lì, filmmente. Lo senti una volta? È track! Te lo fai ripetere subito dopo. Oh, ecco qua. Signori. È tutta una gag per far vedere che esiste un merchandising. Il nostro modello. Madonna che modello. Ti hanno fatto pure l'applauso. Ecco gli altri modelli. Allora. C. S. Copra l'occhio sinistro. Ma cos'è, per il rinnovo della patente? Ma scusa, il nome vero è questo qua. Ma l'acronimo è diverso dal nome... Stai a guardare, Giampi. Già ho detto l'acronimo. Eh? Tu di classi. L'acronimo gioca quest'anno come mediano nel toro. Allora, vieni. Quindi, signori. Voi iniziate a fare l'applauso verso la fine del nome così io lo sbaglio e voi non me ne accorgete. I CO2 Scamma Minor Orchestra oppure CSMO. Insomma, ci siamo, dai. Grazie, buon divertimento. Ciao a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla tromba Raffaele Scibelli, al sax tenore Stefano Lucà, alla voce Elisa Dosio e al sax Gian Piero Nero. Alla tromba Raffaele Scibelli, al sax tenore Stefano Lucà, alla voce Elisa Dosio e al sax tenore Stefano Lucà. le braccia, per tutte le persone c'è lo stesso sole, qui noi tutti insieme sappiamo che per tenere, lanciamo ad alta voce, il canto va veloce, parola di oltre, parola di oltre, parola di oltre, parola di oltre, scarca e strau. Parola di oltre, parola di oltre, parola di oltre, scarca e strau. A prestudio di oltre, parola di oltre, parola di oltre, parola di oltre, parola di oltre, parcola di oltre, piaga, pui bambini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.